bentornati ovetti sul canale dream tv hs in compagnia di mister dream oggi stiamo provando un po qui con la nintendo switch giochi vecchi con tramite abbonamento di nintendo online che sblocca praticamente tutti i giochi vecchi della nintendo 8 bit qua ci sono una caterva di giochi partirei da don kong 3 mighty bomb breaking crew city connexion c'è veramente una una marea di giochi super mario bros lost levels però sarà bello super mario bros 2 super mario così vediamo un attimo così vediamo pure un po livello di audio qua come va mario bros tennis è zelda ragazzi è un grandissimo gioco zelda per me è stato un amore a prima vista solo che volevo provare qualche gioco con voi simpatico e carino tipo il grandissimo punch out è lui il grande punch out il pugno che rompe la rete di punch out è sempre epico contro un francese gioco con l'inno nazionale francese marseillese da 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 siamo john con la nostra cannottiera nera non da neanche un pugno dobbiamo cercare di trovare la stella così fa la maximossa se vi ricordate uno ok tappeto 43 secondi di solito qua arrivo sempre secondo ramo ho fatto pure una partita prima però non penso di arrivare si spera perchè il problema è che quando lui da il pugno bisogna boffarlo di pugno ecco è arrivata la stella vedi due stelle ok due volte tappeto abbiamo un'altra stella ricordiamoci che tre minuti finisce la adesso farà il giochetto suo che balla ed è pugno sotto eccolo ok il primo è andato bene peccato che poi per salvare a parte i codici vedi von kaiser tedesco la germania 42 anni noi abbiamo 17 dal bronx non so se voi lo sapete beh a parte mike tyson che è l'ultimo boss nella versione forse quella europea non vorrei dire una sciocchezza c'è proprio il nome del mio nick mister dream qua chi ha fatto un cazzotto in faccia da von kaiser che scuote la testa ecco il pugno è arrivato c'è la stella è arrivata un'altra stella aia no 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 bomb 1950 qua però siamo un po più lenti perchè prima era caduto al tappeto a meno di un minuto e 36 secondi qua un minuto e 09 ci dobbiamo dare una mossa qua ok la stella è arrivata ok no 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 boom è caduto adesso si rialza un minuto e 20 poi abbiamo tempo di poter fare anche l'altra l'altra stella ah non c'è andiamo a prenderla è arrivata no 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 un minuto e 32 un po' tecnica positiva sta cosa e nulla vediamo un po' l'eco qua se ci sarà se non ci sarà ok title bout WVBA Minor Circuit Piston Onda eccolo 28 anni dal Giappone contro il Little Mac 17 anni ricordiamo venne da Bronx dall'America Stati Uniti questo mi ricordo che aveva come mossa segreta forse gli occhi che si muovevano le sopracciglia non mi ricordo ah che faceva si illuminava eh questa non sarà facile qua qua devo fare più velocità nei puni perché sono lentissimo ok è arrivata la stella però chiamato subito il cazzotto eh perdiamo già tempo mi ricordo che ho messo due minuti ah mi ricordo che questo qua e poi c'era il fratello gemello c'era proprio lui che continuava a ma dai non se lo butto al tappeto una volta questo si mille e quattro due minuti questa sarà lunga sta partita abbiamo avuto a compi' sto nome e vediamo questo video poi portiamoci e porteremo avanti ok colpito e qua era da dare così aghia eh qua stiamo chiappando botte ragazzi ascolta me colpiscilo di guardia per stunnarlo poi carica sul caricati su di lui sushi kamikaze fujiyama giappone ic bah questa partita la vedo dura anche perchè qua possiamo rischiare di cadere a tappeto eh dopo già due sfide però me che forte nel piccolo ok è caduto però due volte al tappeto 36 secondi qua è lunga perchè comunque non so se si azzera eh vedi mi ha buttato il tappeto perchè pure che mi paro oppure che mi paro perdo un po' di energia oppure che mi paro perdo un po' di energia questa è rompio palla eh schiatta su solo che che due volte no ma sei anglos io sono sei anglos si si fa un po' di scena ma 308 secondi vabbè vabbè vediamo se archiviamo una pratica a giappone mi sa che si alza ancora 2019 ah capotecnico come tre volte giusto il primo round si si il primo round e boh ragazzi io vi ringrazio greatfighting you won by capotecnico 2019 secondi secondo round ladies and gentlemen we have a new champion ora corre un po' tatatata 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 finalmente little mac il suo coach che abbiamo bicicletta tutto si muove poiché la bicicletta è la persona si muove solamente lo sfondo se ci ho avvicato eh è giocano al carano in vedere ragazzi è stata la libertà sono poco curiosi di vedere paschi eccolo qua attenzione da segnare soprattutto per prenderci comunque grazie per essere venuti sul canale ci vediamo con il prossimo episodio di Mike Tyson Punch Out dal quarto intanto se ci prendiamo prendetevi il codice alla prossima see you next time